buongiorno a tutti video mattutino perché ieri sera dopo il mio ritorno al lavoro sono crollato clamorosamente alle 21 e 30 dunque non sono riuscito a fare il mio video giornaliero l'ho fatto stamattina location un po così sono nella cucina della padrona di casa di mia moglie perché l'unico punto dove posso fare il video la mattina perché gli altri giustamente a quest'ora dormono piccola preambolo piccola premessa comunque partiamo volevo chiarire due punti il primo sempre riferito nazionale visto che ancora nessuno mi ha scritto nel canale youtube dove invito a quei quegli amici che ringrazio fedelissimi che mi seguono di cliccare la campanellina per iscriversi così quando faccio il video gli arriva subito la notifica mia mi hanno quelli che hanno visto il video e non si sono iscritti o non hanno commentato mi hanno scritto su whatsapp mi hanno incontrato per strada mi hanno detto alex però non si può criticare la nazionale di mancini io non ho criticato la nazionale di mancini io ho criticato il metodo chiuso mancini e mancini lo ringrazierò sempre ragazzi perché ha vinto un europeo e ha vinto un europeo per me non con la squadra favorita e ha vinto un europeo senza punta in calità gli alla punta non c'era ma questo è un problema che ci sia mancini o che non ci sia mancini la punta non c'è è come nel basket dove non abbiamo un centro è uguale non è la colpa del renatore perché non lo convoca perché non c'è quando una cosa non ce l'hai non è che ci viene su uno e se ne inventa quello che io dico con che ho un criticato che ho detto di mancini sono due cose la prima è che il nazionale visto che non è che è una cosa che hai tutti i giorni ti incontri una volta al mese diciamo di routine devi far giocare quelli che sono in forma e adesso il signor ciro immobile non è in forma poiché per me ciro immobile sia una pippa e che per altri sia un campione un buon giocatore quelli sono opinioni ognuno c'ha le sue tanto di cappello ragazzi per me è una pippa è una pippa e l'ho già specificato a livello europeo nel vino in campo europeo conta zero ragazzi sono i numeri che lo dicono non è che lo dico io l'italia fa gol quando va di là un po come noi della juve l'italia vinciamo quando andiamo di là ci viene qualcosina io penso che non abbia detto niente di male allora se vedi che immobile non va perché immobile non va bisogna che cambi qualcosa perché immobile non è che non va con bulgaria e con una svizzera ragazzi noi è dagli ottavi di finale italia austria italia belgio italia spagna tra l'inghilterra e le ultime due del girone italia bulgaria italia svizzera dove abbiamo vinto una partita nei 90 minuti regolamentari 2 a 1 col bello perché a quella volta oltre al solito centrocampista ha fatto gol appunto che vi insegna che è una mezza punta e per me non è neanche tutto sto gran campione però è un buon giocatore che si impegna per me l'insegna è quello che dice più di questo ragazzi non posso allora immobile sono sette partite che non la sfrega e noi sono sei sette partite che ne abbiamo vinta una sei pareggi e una vittoria calcola cavate i supplementari e rigori vorrà pur dire che c'è qualcosa là davanti che non va questo volevo dire nel mio concetto non criticare mancini mancini adesso si è fissato con immobile agli europei ne aveva due immobile belotti provato ogni tanto a mettere sul gallo non è che il gallo avesse fatto sfracelli adesso te li porti dietro si è portato dietro chin raspadori scamacca ho capito che non sono van basten non so neanche il rì o benzemà abbiamo quelli ragazzi non è che possiamo andare a prendere dall'altra gente è preso chin scamacca raspadori prova lì prova lì non mandali in tribuna se no li lasci nelle loro squadre che si allenano che senso ha portarti di dietro per mandali in tribuna e continuare su uno che non sfrega il pallone ma oltre a non sfregare il pallone non fa il bene della squadra perché immobile sbaglia anche l'insbagliabile sbaglia i passaggi sbaglia gli stop sbaglia gli appoggi che sbaglia tutto non ha senso continuare con lui parte che fai male anche il giocatore questo era il mio punto il secondo punto era per il fatto dei cambi al novantesimo non era una critica sono cose che non hanno senso sono cose che non hanno senso adesso ieri ho letto che pellegrini è andato è tornato a roma allora probabilmente non stava bene ma se non stava bene come mi ha detto uno ieri visto te hai criticato che pellegrini non lo fa giocare poi è malata a caso si vede che ha un problema capito allora c'è un problema perché non lo metti su al novantesimo io non lo so però lui nelle partite che abbiamo fatto italia bulgaria italia svizzera quando ha fatto il primo cambio a metà campo ha sempre cavato quello che giocava meglio dei tre comunque piccolo preambolo nazionale chiusa ripeto il mancio io non non ce l'ho assolutamente con mangio anzi io spero che stia il nazionale il più lungo possibile finché ne ha voglia perché perché per me validissimo commissario tecnico ma a prescindere che abbia vinto l'europeo è un fatto di mentalità io questo ci tenevo a dirlo secondo punto paolo di bala ecco paolo di bala paolo di bala tutti mi dicono a non firma 12 milioni di euro 12 di quadro decida allora prescindere che io non so la verità non so se sia vero mi fido di quello che sento da non posso neanche chiamarli colleghi youtuber perché loro hanno milioni di follower lo fanno da molto più tempo di me ma siccome ascolto vari colleghi beh vari colleghi scusate magari vari youtuber e poi ascolto anche vari canali della juventus ho sentito che di bala avrebbe chiesto 12 milioni di euro mentre la juventus sarebbe arrivata un 8 8 e mezzo più bonus dove arriverebbe diciamo facilmente a 10 allora secondo me è uno solo mi sembra che la juventus abbia dimostrato a paolo di bala che sia il centro del progetto futuro la juventus sta cercando di costruire una squadra giovane giovane non giovanissima giovane perché l'età media mi sembra che sia sui 25 che nel giro di 1 barra 2 anni possa tornare a essere super competitiva in più vedere la voglia che ha paolo di bala se paolo di bala sente suo questo progetto e voglia di rimanere io penso che lui si possa anche accontentare accontentare tra virgolette che riprendessi io degli 8 8 e mezzo più bonus e poi magari sai fra 12 anni dimostrando sul campo perché bisogna anche dimostrare sul campo si possono aprire nuovi nuovi scenari diversamente parlando io penso che sia anche giusto che la juventus si tuteli e che lo faccia che lo faccia andare via sicuramente perderlo a zero è brutto brutto io penso che sarebbe anche un brutto gesto nei confronti dei tifosi perché sono cose che io non non concepisco però ho provato delle volte dire massa io faccio il mio lavoro se viene un'altra ditta che mi chiede però obiettivamente c'è lì sono cose troppo troppo più grandi di noi di me sono discorsi troppo di troppo differenti altra cosa a questo punto cioè io vedo visto anche visto che ho un fratello che milanista e molti amici milanissi il fatto donna roma io gigolo lo ammiro mi piace e lo avrei voluto molto volentieri la juventus però come andato via dal mina non mi è piaciuto io penso che comunque la riconoscenza nel calcio ci sia sempre lo so che è un mondo dove girano solo dei soldi pieno di mercenari che guardano solo ai soldi però quando ti ha dimostrato e sei stato trattato bene voluto bene soprattutto perché comunque una cosa che i calciatori non si devono dimenticare che il calcio dei tifosi ecco però piano io ve lo dico da tifoso da appassionato non come ceferin che lui lo dice lo spaccia ceferin è il classico politico che dice che la coca non deve girare nel mondo perché la coca il male poi si fa due righe di cocaina scusate l'esempio che può sembrare forte può risultare male però il mio è il mio pensiero e mi assumo la responsabilità di quello che dico ceferin dice che il calcio dei tifosi del popolo e poi fa fare il cavolo cazzo che gli pare a quelli che gli sono vicini perché gli inglesi che gli hanno gli sono tornati a leccare il culo stanno facendo quello che vuole il pari san germain non ne parliamo neanche poi però dall'anno prossimo c'è il nuovo fair play finanziario così se te lo vuoi far notte vai le fai la multina non qui spero bevamente che ero uno adesso sto passando da un argomento all'altro però mi collego con la mente sono uno che era contro la super lega ma a questo punto penso spero che facciano una cosa fatta bene che a ceferin glielo pongano da dietro ritornando sul discorso di dibale dei soldi ecco stavo per dire vi dicevo che vada via come come ha fatto donna ruma mi dispiace ripeto nonostante io stimo molto gigio lo ammiro e per me è un grandissimo portiere mi dispiacerebbe molto però come mi ha detto anche una grossa intenditrice di calcio mia moglie capisce niente di caso li guardano solo i soldi e fanno solo i loro interessi detto questo ragazzi non so non so sinceramente cosa dirvi a parte che spero che si mettano a posto e che paolino rinnovi con questo io vi saluto a una cosa vuole fare i complimenti a matteo bertini è arrivato ai quarti di finale di us open che sta portando avanti il tennis italiano in una maniera molto 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 egregia e faccio un cross in buca al lupo contro gioco vici perché adesso già lo scoglio più grande gli auguro di riuscire a fare un'impresa visto che siamo nel 2021 e nuovi italiani secondo me ci sta riuscendo di tutto gli auguro di riuscire a battere finalmente gioco vici e poi niente speriamo che l'italia domani sera non sgambetti e poi se non crollo ci vediamo stasera per il classico video ciao a tutti